mmmm, yummi! mcdonald, avete presente quelle cosettine tutte belle croccate, buone? Burger King, questi fast food e ovviamente è sano, tutto, leggero iniziamo subito, facciamo questa supercettina che è semplice, semplice, semplice pollo, io uso pollo bio ovviamente avevate dubbi? no quindi io uso pollo bio e l'ho tutto tagliato, ho usato il petto di pollo però voi se volete potete utilizzare le coscette, i pezzetti, quello che volete voi io preferisco il petto, l'ho fatto tutte le fette a pezzettini, diciamo così e adesso le vado a passare nelle uova anche le uova sono bio ovviamente sia nelle uova che nel pangrattato metto un po' di sale un po' di pepe un po' di paprika nel pangrattato che lo rende più buono viene una panatura colorata, bella colorata poi metto un po' di erba a cipollina poi con le spezie fate voi e questo qua, che è questo hot spice, quello che abbiamo comprato a Lidl ti ricordi? sì, sì, me lo ricordo abbiamo fatto anche il video spero che non sia troppo piccante però no, non è piccante molto comunque degli acquisti a Lidl avevo fatto il video e ho comprato questo qua che io lo sto adorando lo metto dappertutto lì ho fatto la trasformazione da napoletana a italiana con carta forno appunto per renderlo ancora più leggera la nostra cottura che andiamo a fare appunto a forno è non fritto però è buonissimo e adesso così continuiamo per tutti i pezzi di polvo noi qua ce ne abbiamo molti perché ovviamente sapete che i venenti abbiamo tanta tanta fame quindi abbiamo molti pezzetti troppa fame ci vediamo fra poco quando l'ho finito, fra 3-4 ore ho finito si fa il pan grattato così con i wasa eccoli qua, vi faccio vedere quelli la che compriamo a Lidl frullati a metà cottura io aggiungo un po' di olietto così viene più croccante e più buono e non viene secco vedete? e lo rimetto in forno e voilà è fatto il nostro pollo super croccante buonissimo potete accompagnarlo se volete una salsina tipo questa qua che è il nostro ketchup fatto in casa di cui anche di questo vi abbiamo fatto il video così lo inzuppate dentro gnam gnam troppo buono Yumi super croccantoso siamo pronti per questa sfida challenge eccole qua le nostre patatons buonissime mmm Yumi ragazzi provatelo perché è buonissimo mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video se ancora non siete iscritti iscrivetevi per questo il mio secondo canale e vi mando un bacio grandissimo ciao 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 ciao